E' un altro Skywars! Yeah! Yo! Yo e tanto n***a, oh yeah! Io ho delle scale, non posso pensarle sul campus Dai, è il momento, vado nel mezzo Veramente si possono piazzare sul cactus? No, ci speravo Allora, a destra gold e a sinistra c'ho stick Io vado da blu Mezzo Guardami le spalle Ah, lo sai Ah, blu, lo sai che è stick? Attenta, blu! Ah, sono salvo Io mi sto per suicidare, proprio Provo a non farlo Io ho vetro Non è che ci sono le trappole qua in mezzo E io faccio punti volentieri Per andare a uccidere uno Attenzione Attenzione Sto per uccidere uno ATTENTO! GOL GOL Mi stai spaventando un sacco Ho ucciso big money Vieni qua, vieni qua, vieni qua Vieni qua, vieni qua, vieni qua No, no, no Vieni qua No, no, no Avete armatura per me? Detelo per me Detelo per me Sharpness Ne è rimasto uno Ah no, siamo Ah sì, è rimasto stick Dov'è stick? Chi è stick? Mi ha ucciso a me quello stick Stick è quello lì che ti tassi Eccolo la stick Mi ha fatto quella via con una pala Ma sticcazzi Ma sticcazzi Mi ha detto che era pericoloso Sotto c'ho Glacial e gold Eccolo stick che sta arrivando da noi, oh Qualcuno? Aspetta 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 Mi butto giù eh No, si è salvato Oh cazzo Ma che è una merda Glacial che trova Qualcuno c'ha armatura Lui è la spada in ferro Aspetta che gli tiro la pozione Ma che c'ha il tp del fuoco questo Eccolo Avvelenato Si Io c'ho paura a qualcuno Vieni, vieni Merda Sto morendo Va bene Lo sapevo Eccolo 2 1 Cosa 3 2 1 Ma cosa? Un scontro tra me e Glacial Ah ok Io mi so buttato dalla fine del parkour Ma tu c'hai l'arco E beh tu c'hai la spada in ferro Eh Oh mio dio Ma io non c'ho armor Chi ha vinto? Do 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 Eeeh 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 Chi vince? Non lo sa, non lo so, ci siamo... c'è un momento di stallo Eeeh Eeeh No ma sei... sei laggiù Sei laggiù Sei laggiù Mi spiegate? Dai Dai su Io ho paura qua da solo Gidero Addio Hai che saltare va Inutile scappare dalla morte Ooooooh Ancora? Ma stavolta sei... sei fattuto Arrendetemi Mi dispiace E' una cattiva persona se mi togli l'acqua To genere Cosa è un divano? Ma proprio ora è vero Un divano? Ma che? Ma trappa in time No, no, guarda, non so di trapani, questa è la vibrazione del telefono. Eh no, pare che c'è il vibratore a fianco al microfono, capito? No, ci sta quicca il suo vibratore. È qualcos'altro che potrebbe rovinare la registrazione? No. Trapani, tu. Chi è quel mole che usa il trapano? A mettere in silenzio. Vabbè, ragazzi, ragazzi, io ho vinto, perché non c'è più acqua. Non è vero! Benvenuti alla fine della registrazione. Siamo in trapano. Mi sto ancora salvando. Al prossimo video! Ciao!